presentati sono veronica camerada e sono docente nel corso di studi in lingue e culture e tecniche per il turismo sono antonella cano e sono laureata nell'attuale corso di laurea triennale di lingue e culture e tecniche per il turismo antonella e veronica vi conoscete sì certo la conosco è una mia tesista sì è la mia l'altrice descritti il corso di studi in lingue culture e tecniche per il turismo con due aggettivi e motiva la scelta è utile per i giovani perché consente di acquisire competenze necessarie per potersi inserire nel mondo del lavoro è importante per il territorio perché permette allo stesso di potersi inserire all'interno di un mercato turistico globale allora innanzitutto un aggettivo che darei per il mio corso di laurea è sicuramente il fatto che è molto pratico perché l'attività didattica strettamente teorica viene poi accompagnata concretamente con quelle che sono tutte le attività spendibili a livello pratico poi secondo aggettivo è sicuramente che il corso è molto all'avanguardia perché questo perché è al passo con i tempi ci permette in veste di studenti di rendere fruibili le nostre potenzialità le nostre passioni concretamente poi in quello che è il nostro territorio per quello che è il tuo ruolo quale ritieni sia l'obiettivo più importante realizzato nell'ambito di questo percorso accademico le mie conoscenze sono servite per permettere a ragazze e ragazze di poter realizzare un progetto di vita sicuramente gli obiettivi raggiunti sono tantissimi però tra quelli che riconosco essere più importanti sono quelli di aver scoperto innanzitutto le mie potenzialità le mie passioni le mie vocazioni anche personali e avere acquisito e sviluppato delle competenze da poter poi spendere nel territorio e nel lavoro che poi andrei a fare nel mio futuro da professionista perché uno studente dovrebbe iscriversi a questo corso di studi? perché quello turistico è un settore in perpetua espansione che non conosce battute dal resto il turismo è compatibile con modelli di crescita sostenibili e intelligenti all'interno di questa realtà è davvero possibile affermare se stessi ma è necessario acquisire delle competenze noi siamo qua per questo ci si dovrebbe iscrivere a questo corso di laurea perché il fenomeno del turismo è in continua evoluzione e soprattutto caratterizzato da un dinamismo particolare quindi il corso di laurea ci offre la possibilità e le competenze per poterlo gestire sia da un punto di vista culturale che linguistico vi ringrazio, abbiamo finito, salutatevi ciao Antonella, in bocca al lupo ciao prof ciao